Francesco Del Sio, la sua scossa, buongiorno! Ma buongiorno, la forza è bello condividerla, quindi è di tutti noi e della grande RTL, buongiorno. Buongiorno Francesco, allora un tema particolare quello di oggi della scossa perché parliamo di contraffazione, anzi di lotta alla contraffazione, ci sono state alcune novità negli scorsi giorni, siamo all'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, sempre qui a Roma, forse uno spiraglio di luce per contrastare un fenomeno che ci toglie parecchi soldi oppure no? Eh sì, la notizia dei giorni scorsi è che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, guidata in maniera molto brillante da Marcello Minenna, ha inaugurato la casa dell'anticontraffazione. Che cos'è la casa dell'anticontraffazione Luigi? Devi visitarla! Esatto, è un istituto, tra l'altro si era parlato anche di nuovi enti creati dal governo Draghi, avevamo parlato di cyber sicurezza la settimana scorsa, adesso si parla, in realtà forse ci defiliamo un po' rispetto alle proposte del governo, ma insomma un istituto che si occupa di verificare il Made in Italy o no? Allora sì, sono due cose collegate ma distinte. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve verificare che tutti i prodotti che entrano in Italia siano sicuri e siano conformi rispetto alle normative. Questo fa oggi, inaugura qualche giorno fa il Museo dell'anticontraffazione per mostrare a tutti i cittadini, perché è aperto a tutti, quelli che vogliono visitarlo, a quale punto possa arrivare la mistificazione, la contraffazione dei prodotti. Quindi nel museo è possibile assistere a delle auto che sembrano Ferrari ma sono taroccate e non lo sono. Ma cosa gli scrivono al posto di Ferrari? E al posto del cavallino mettono il mulo, cosa fanno? Immaginate il danno di tutto questo, ovviamente. Piuttosto che giocattoli contraffatti che sono molto pericolosi per la salute dei nostri bambini, piuttosto che medicinali, contraffatti piuttosto che borse e vestiti e tutto quello che fa grande oggi nel mondo il Made in Italy. Tutto questo oggi è in mostra perché tutti sappiano quali danni produce appunto la contraffazione a noi tutti, al Made in Italy, all'Italia nel mondo. Allora, quando andiamo all'estero, se fate un giro magari per i supermercati, vi capiterà di trovare dei prodotti quantomeno discutibili dai nomi vagamente italiani. Il parmesan, queste lasagne, la bolognese, che di bolognese non hanno neanche un parente lontano, però vengono spacciati per italiani perché l'Italia è un'eccellenza in quel settore. Si riesce a calcolare quanto è ampio, quanto ci costa questo fenomeno? Allora, è stato calcolato che il costo, quindi il danno per il sistema Italia della contraffazione oscilla tra i 30 e i 35 miliardi di euro l'anno. Quindi un danno gigantesco per le nostre imprese, per le casse dello Stato, per noi tutti. È molto divertente guardare gli americani che vengono ancora in tantissimi in vacanza in Italia e che assaggiano per la prima volta in Italia il parmigiano vero, il parmigiano reggiano e il grana padano e che dicono ma io conoscevo un altro formaggio, il parmesan, a cui tu facevi riferimento, che ovviamente non ha nulla di italiano se non l'italian sounding. Ma lo stesso vale per i vini, lo stesso vale per molti altri cibi, appunto per il fashion e per tanti altri prodotti. Quindi è decisivo per l'Italia, per la fame d'Italia che c'è nel mondo, che è gigantesca, saper proteggere i nostri prodotti. Direi che siamo finalmente sulla strada giusta. Ecco, a proposito di mondo, ma il fenomeno della contraffazione, Francesco, è qualcosa che trova terreno solo all'estero perché noi italiani non ci facciamo fregare, insomma i prodotti li conosciamo, oppure in realtà anche nel nostro paese di Laga? No, di Laga in Italia si diceva un tempo che, come dire, gli italiani erano i cinesi d'Europa, ora senza offesa né per gli italiani né per i cinesi perché siamo tutti amici sotto questo cielo. In realtà sono molto interessanti, anzi impressionanti i dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Descritti dallo stesso Minenna in questa iniziativa, l'Agenzia ha aumentato nel 2020 i sequestri di prodotti contraffatti del 262%. Stiamo parlando di 13 milioni di pezzi sequestrati. Ma qual è il problema? È che noi italiani non riconosciamo un prodotto falso oppure lo sappiamo, ma insomma vuoi per risparmiare, vuoi per altro. Capisci, ma la regali tu, la fendi, scusami. Eh no, appunto, come dire, nelle bancarelle molti italiani trovano quello che troverebbero nei negozi a pezzi a prezzi stratosferici, invece a prezzi molto più abbordabili. Quindi, però attenzione, qual è il problema? Il problema non è semplicemente un marchio che cambia, che è simile all'altro, eccetera. Il problema è che dietro ci sono pezzi di industria, di impresa italiana, che danno lavoro, che danno innovazione e sviluppo, e che tutto questo riguarda in realtà milioni di italiani. Quindi quel risparmio che ci sembra di ottenere in quel modo, in realtà sta impoverendo altri milioni di italiani, molti milioni di italiani. Sarebbe interessante, ma non abbiamo tempo, ma sarebbe interessante farlo, insomma, approfondire il tema nelle prossime puntate, dal punto di vista legale. Se io sono un produttore di un certo vino, di una certa borsa, trovo il mio vino, la mia borsa, con un nome leggermente diverso, ma il prodotto a prima vista è identico, come posso tutelarmi legalmente? Sarà interessante poi... In Italia la tutela ovviamente esiste, tra paesi diversi del mondo, è facile immaginare come sia molto più difficile ottenere questa tutela. È chiaro. Sì, probabilmente più complicato. Francesco Delzio, grazie per la scossa di questo venerdì. Buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona scossa a tutti. Ciao. Grazie Francesco.